Alì nel futuro I primi passi degli apparecchi a reazione È una suggestione ininterrotta di prodesse Alle acrobatie più audaci E alle imprese più arrischiate Tengono dietro le fasi traumatiche Di cui è intessuta la vicenda Essa non attinge alla fantasia di uno scrittore Ma ad un'autentica pagina Scritta dall'aviazione inglese E presso da filota John Larrick Che si sacrificò in un tentativo rimasto memorabile Il film vuole essere ad un tempo Testimonianza di un sublime eroismo E glorificazione di una impresa sfortunata Grazie Grazie Grazie